Ciao amici, oggi è il 29 giugno e stasera ci sarà qui Crimi all'ippodromo centrale di Tokyo. Non vedo l'ora di vederla, venite anche voi, ciao! C'è solo un'altra canzone in programma, sono certo che il pubblico capirà che non è più possibile andare avanti. Sospenderemo al termine di questa canzone. Già, è vero, sono d'accordo, non abbiamo altra scelta, troppo. Ehi, ehi, no! Ma si può sapere che vi basta per quella testaccia. E non vedi che piove ha dirotto? Idioti! Date un po' un'occhiata, con nessuno ha intenzione di tornarsene a casa. Ha ragione, tuoi notte, non si può interrompere lo spettacolo. Ma di Merlini, li troverò. Lo so che piove ha dirotto, ma mi permettete di cantare ancora una canzone. Sei un oletero. Questa sarà la mia ultima canzone. L'arco! L'arco! Che cosa sta succedendo, qualcuno me lo spieghi? Maledizione! Cosa succede, Grimi? Pino, Pino, mi manca una sola canzone! Pino, mi vengono, non è ancora più! Pino, mi vengono, non è ancora più! Grazie. Grazie. Grazie.